Il numero di rossi è un percorso di gara con il numero di rossi e il suo numero di rossi e il numero di rossi. Bene signori, ricordiamo che Donato Argentieri è da ben 10 anni il vincitore del campionato giuncane automobilistiche. quest'anno nell'unica gara più osturi cercherà di mantenere il suo stato di leader delle corse da ben 10 anni signori, figlio d'alti anche il padre Rocco ha fatto molte gare vingendo la maggior parte, intanto un'altra cittadina già in fase centrale di percorso ci denizia tra una sgommata e l'altra, slalom velocissimo per arrivare alla S, bene o bene a mano per lui, signori non si ferma proprio mamma mia signori, le ruote non si sono, bloccate un secondo in un altro argentino alla guida bene qua, Alfa Romeo GT, passione posteriore puro divertimento assoluto signori, Donato Argentiero col numero uno sulle spalle, già in fase di nientro, sta adesso interpretando la retromarcia signori, solo per veri campioni, ricordiamo che il percorso del Ginkana non va fatto in velocità ma va fatto con molta bravura e soprattutto eleganza, questi piloti di certo non manca per ultima in sigla del percorso, Donato Argentiero fa condolare la sua Alfa Romeo GT che è un vero spettacolo e noi accompagniamo Donato Argentiero col numero uno sulle pranzo, numero uno Alfa Romeo GT è sempre uno spettacolo, è sempre Donato Argentiero